Prossimo premio, eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, professional translation services. Il premio va a ASTV, per essere un punto di riferimento nel settore delle traduzioni specialistiche e professionali, in particolare in ambito medico e legale, per la capacità di combinare preparazione, qualità e tecnologia. Grazie a un team eclettico, dall'esperienza pluriennale, ASTV è in grado di trasformare le parole in opportunità. Fondatore e amministratore di ASTV, Domenico Lombardini, buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie per essere qui, preparazione, qualità, tecnologia, un team eclettico, dall'esperienza pluriennale, insomma parliamo di sostanza in questo caso, che cosa dice dopo aver ricevuto questo riconoscimento? Prima di tutto, vorrei... mi sentite? Certo, la sentiamo, prego. Prima di tutto vorrei ringraziare Le Fonti per aver attribuito questo premio a tutti noi, per noi è veramente importante vedere riconosciuto l'impegno che abbiamo profuso, io e tutti i miei collaboratori in questi anni, che ci ha permesso di essere sempre più concorrenziali in questo settore, che alludo a quello della traduzione e della localizzazione, che di per sé è molto esposto alla concorrenza internazionale. In questi anni appunto siamo sforzati a diventare un punto di riferimento nel nostro settore target, che è quello delle traduzioni in ambito obbiettuale, marchi, legale, finanziario. E oggi possiamo dire di essere tra le aziende leader in Italia, in questo settore. Esatto, perché poi io appunto vado a rileggere la motivazione, una parte della motivazione che abbiamo ascoltato poco fa, la capacità che avete di trasformare le parole in opportunità. Anche qui, cosa banale, ma insomma sempre vera, facile parlare, no? Però poi bisogna agire concretamente. E quindi questo, insomma, come lo spiega? Come riuscite, come siete riusciti ad acquistare fiducia proprio da questo punto di vista? Ma penso che qui le cose importanti che vanno enfatizzate sono la qualità e la capacità di gestire flussi di lavoro grossi. Per farciò è necessario l'utilizzo della tecnologia e anche delle persone in grado di usare la tecnologia. Quindi la formazione delle persone è un aspetto fondamentale. Quindi valorizzare le competenze di ciascuno. Questo cosa significa? Conoscere a fondo, no? Anche le esigenze delle persone con cui lavorate. Esatto. Noi ci rivolgiamo in particolar modo agli uffici di proprietà intellettuali, legali, ma anche aziende, biotech, farmaceutico. Quindi è necessario avere un orecchio per tutte le diverse necessità di questi clienti. E soltanto con l'esperienza e con la tratta sul campo, dopo aver macinato molto lavoro, è possibile essere efficienti e garantire sempre la qualità. Va bene. Allora, lo sguardo al futuro mi sembra di capire assolutamente positivo, giusto? Sì, è positivo perché noi comunque, nonostante i periodi difficili, vediamo un aumento continuo delle richieste e questo mi fa ben sperare per il futuro e soprattutto per tutti i miei collaboratori che vorrei qui ringraziare, senza i quali ASTV non potrebbe essere quella che è. Va bene. Allora, io ringrazio naturalmente Novenico Lombardini, ricordiamo fondatore e amministratore di ASTV. Complimenti ancora per questo premio. Grazie. Grazie a voi. Grazie ancora. Noi continuiamo, andiamo a svelare il prossimo vincitore.